...seguci con la chiave di volatà che va a figlio, anche perché comunque questo è un terreno e un terreno, cioè è una sabbia lunga che si va, quindi si va a scavare a passaggio. BINAMI PARCO NORDE BINAMI PARCO NORDE BINAMI PARCO NORDE BINAMI PARCO NORDE BINAMI PARCO NORDE